Questa è una partita molto importante, anche se sono tante partite così nella stagione, però sì, speriamo che vinciamo questa partita e siamo vicini dall'imposto al play-off, che è un obiettivo di tutti i club per questa stagione. Vediamo se è possibile vincere. Trento è una squadra diversa quando giochi in Cup e quando giochi in campionato italiano. È una squadra forte, molto aggressiva. Abbiamo giocato tutte le grandi partite questa stagione, abbiamo vinto contro una squadra molto forte. Non è una partita facile per noi la domenica, però noi siamo allenando molto bene questa settimana, anche la settimana scorsa, e speriamo che sia possibile trasferire questo allenamento alla partita. Grazie a tutti.